Oggi su Fanner News, calcio a 5, calcio a 8, Virgin Cup e sgreccia. Amparo Lasciaterni sarà a Montesilvano. Gli Stati Uniti centrano la semifinale, la Celeste approda i quarti. La redazione di Fanner e il voto popolare assegnano i premi individuali della Virgin Cup. In più gli highlights dai quarti di finale del Memorial sgreccia e le fasi finali della Forward Cup. Grazie.